È scattata l'ora solare, ben trovati, ben ritrovati. Oggi vogliamo dedicare la nostra puntata a tutte le persone che vincono. Vi porteremo su un podio olimpico, ma vi porteremo a conoscere quella vittoria che è fatta non di piccole cose, di cose importantissime che cambiano il corso di una situazione. Voglio dire il corso della storia, certo, perché noi siamo la storia, siamo dentro la nostra storia personale. La storia personale di Rosanna Rampin è proprio bella, ben arrivata. Grazie, 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 grazie. Questa signora, questa ragazza, è titolare dell'autoscuola Brianza di Casate Novo, segretaria provinciale lecchese della Unione Nazionale Studi Consulenza Automobilistica. Più semplicemente, semplicemente niente. Lei è istruttrice di guida, non mi chieda nulla, la prego, ho preso la patente a 18 anni. No, no, però ho rispetto, rispetto le norme della strada. Prendo un po' di multe, ma insomma, quello succede a tutti. L'importante è saper guidare bene. Allora, lei perché fa questo lavoro? Perché le piace proprio? Le piace, sì, mi piace perché fin da ragazza io ho seguito le norme di mio padre, sono una figlia d'arte. Sì. E quindi andavo con il papà in macchina, vedevo come faceva lui, e quindi mi sono appassionata a questa cosa. Ho detto, un giorno lo farò anch'io. E l'ha fatto, l'ha fatto, lo fa, lo fa. Al punto tale che, dall'Abrianza, questa ragazza è andata in Arabia Saudita per insegnare alle donne a guidare sacrosanto diritto, del quale appunto l'Arabia Saudita si è resa pienamente conto, partecipando ad un progetto europeo. Mi racconti questa storia perché è meravigliosa. Beh, siccome da qualche anno le donne possono guidare, ma c'era bisogno di istruttrici di guida che andassero a formare la nuova generazione di istruttrici saudite, quindi del paese, tramite la mia associazione sono venuta a sapere di questo progetto. E quindi già l'anno scorso avevo deciso di aderire. Però l'anno scorso? L'anno scorso c'era di mezzo la pandemia, quindi le barriere o comunque le frontiere erano state chiuse e quindi non era possibile partire nell'immediato. Per mesi ho aspettato la mia occasione, intanto mi sono sistemata l'ufficio, le mie cose, in modo tale che se devo partire sono pronta. Sì. A novembre mi arriva una mail in cui mi dicono, saresti pronta a partire in dieci giorni? Dieci giorni, nel senso è da un anno che aspetto adesso. Dieci giorni? E io ho risposto sì. Ma che brava. Brava. Perché vedete, questo è vincere, no? Ma no, è solo la prima parte della vittoria. E già dire, la ragazza è molto organizzata e noi abbiamo tutte le istruzioni e le notizie che ci ha mandato la nostra Chiara Pileri sono quelle di una donna estremamente organizzata. Arriva in questo posto completamente nuovo. Siamo a Dammam, Golfo Persico, e immagina di trovare tutto organizzato. Sì. Allora, sono stata accolta ovviamente dal team, dalle mie colleghe, dal mio capo, solo che quando sono arrivata mi sono trovata in una situazione un po' particolare. I residence locali non sono come i nostri, nel senso che non c'è nulla. C'è nel senso, a parte il mobilio, non c'è nessuna su pellettile. Quindi ho dovuto provvedere a partire da zero a prendermi il pentolino, il piatto, il sale, il pepe. A riarredare, diciamo così. Sì, anche per poter cucinare le cose, altrimenti rimanevo tagliata fuori, non potevo andare tutti i giorni a mangiare al ristorante. Assolutamente, ma questo la comprendo perfettamente. Il posto è bellissimo, lo vedete in fotografia, insomma, è un luogo splendido. Ribadiamo ancora una volta, una istruttrice super professionista e super professionale di guida che va a creare delle altre lei, cioè voi non siete andati a far prendere la patente alle donne, ma a creare coloro le istruttrici che poi faranno prendere la patente alle donne. Allora, l'incontro con una cultura tanto diversa, e credo che sia quella anche parte di questa vittoria, noce del dire io mi metto in contatto con una cultura diversa e la capisco, la comprendo e porto la mia a loro. Sì, è stato proprio questo. Avevo già avuto modo di conoscere il mondo arabo durante le mie passate vacanze, quindi non mi spaventava l'idea di andare in un paese dove comunque c'è una cultura, un tipo di vita diverso dal nostro, e quindi questo va bene. Però poi viverlo quotidianamente è ancora più coinvolgente, quindi questo mi è servito per trovare il tipo di rapporto giusto con le persone con cui mi interfacciavo, con le mie colleghe, con le allieve che diventavano poi istruttrici di guida. Quindi è stato comunque illuminante vivere sul posto. Vivere sul posto è illuminante, solo chi viaggia, voglio dire perché a Salgari è rimasto tutta la vita chiusa nella sua Torino, ha scritto Sandokan e molte altre cose, però solo chi viaggia apre la propria mente a quella conoscenza che poi è ritornare a casa arricchiti da quella cultura. Voi eravate tutto un team femminile? Sì, sì, sì. Pericolosissime, che meraviglia. E invece devo dire che siamo andate tutte d'accordo, cioè nel senso c'è stata una grande solidarietà, abbiamo trovato un feeling perfetto, c'erano persone che venivano dalla Francia, dalla Svezia, due colleghe egiziane, quindi ci siamo trovate bene e abbiamo questo progetto e questa mission da portare avanti e l'abbiamo fatto bene per tutto il tempo che sono rimasta lì. Senta Rosanna, quanto conta e conta sempre l'aspetto psicologico, no? Tu ti trovi davanti comunque a delle persone completamente sconosciute, ok? Parlavate la stessa lingua tecnica, no? Noi parlavamo in inglese. Sì, sì, assolutamente, mi intendo dire portare la macchina è quello, fermarsi allo stop è quello, svolta a sinistra, svolta a destra, eccetera, eccetera. Però quanto conta l'aspetto psicologico? Cioè, per esempio, entrare nel cuore di queste donne che si avviano a fare, stanno facendo, una cosa che fino a poco tempo fa era proibita. Ma allora, oltre a fare soltanto appunto la nostra parte tecnica di insegnamento, cercavamo di motivarle, di farle sentire delle persone speciali, perché gli facevamo capire che comunque grazie a questo lavoro avrebbero aiutato altre donne a raggiungere quella che è un'emancipazione che in questo momento è uno dei parti del progetto che riguarda la rata. Sì, sì, e quindi cercavamo di renderle coinvolti in questa cosa, ma loro erano già comunque molto entusiaste, quindi ogni cosa che io gli dicevo, che gli insegnavo, loro mi ringraziavano. Cioè, mi portavano il tè col ramoscello di menta, mi chiedevano se potevo fare una foto con loro, ogni volta era un chiedere. Quindi ho riscoperto anche una gentilezza che da noi è un po' ultimamente, cioè si dà per scontata, mi devi insegnare questa cosa, grazie, ok, arrivederci. Invece noi, noi davamo qualcosa a loro e loro a noi, non so chi dei due ha dato di più in questa esperienza. Allora non ritorno nella gentilezza anche da noi. Rosanna Rampin, come vedete, ha la patente anche in gentilezza, è come se ce l'ha. E se non è una vittoria questa rispetto alle persone così scortesi, così scorbutiche, così sempre con la bocca disegnata all'ingiù, per principio e per partito preso, sapete che c'è? Noi andiamo in Arabia Saudita e portiamo anche, anzi, scambiamo questa meraviglia che è anche la gentilezza. Ma non finisce qui, perché tra poco ci racconterà di molte altre cose che sono accadute, tra un istante, uno stop. Aspettiamo che riparta il semaforo verde. Come mi è venuta bene questa, mamma mia. La storia, la storia bellissima di Rosanna Rampin, che è una notevole istruttrice di guida, una ragazza molto, molto in gamba, titolare dell'autoscuola Brianza di Casatenovo, segretaria provinciale lecchese dell'Unione Nazionale Studi Consulenza Automobilistica. Siamo a Dhammam, in Arabia Saudita. Rosanna, in questo progetto europeo, quindi con altrettante colleghe istruttrici di guida, viene portata, viene invitata a istruire nuove istruttrici in Arabia Saudita. Cofano della macchina sollevato, tutte con la testa anche nel motore, per conoscere meglio, no? Sì. Ed è una cosa che da noi si fa, però, con meno entusiasmo, no? Con meno entusiasmo, no? Con meno entusiasmo. Io proprio ho visto queste che guardavano, per esempio, tiravano fuori l'astina per controllare il livello dell'olio, guardavano, lo passavano, lo rimettevano a posto, elencavano tutti i pezzi che ci sono all'interno del motore. Ovviamente loro le dicevano in inglese, e io poi gli chiedevo, ma scusa, come si dice in arabo? Allora, pian pianino ho imparato anche alcuni termini in arabo. Eh, perché lei è tenace. Così mi andava ancora più incontro. Certo. E questo gli faceva molto, molto piacere. Certo. Immaginiamo qualcuno che venga a spiegare una cosa a noi in inglese, poi a un certo punto dica quelle parole, indichi quella cosa in italiano, fa piacere. Insomma, è un stringere un pochino di più il rapporto, no? Sì, sì, sì. Sicuramente ha aiutato a rendere ancora più unita la nostra storia. Allora, loro potranno lavorare con l'impronta che ho cercato di dare loro, come mio padre fece con me, scrive Rosanna. Quando si impara a guidare la macchina, non c'è storia, Rosanna, si assapora quel concetto di libertà, di autonomia, che è sacrosanto per chiunque, ma per una donna, è altrettanto, se non ancora più importante. Per queste donne era la stessa cosa? Sì, decisamente. Anche perché, allora, intanto l'istruttore in questo momento è il lavoro del momento. Anche perché c'è una grande richiesta. Cioè, stanno vivendo quello che da noi in Italia era negli anni 60, quindi il momento in cui c'è stata l'emancipazione femminile, in cui anche... Le mamme iniziavano a guidare la macchina di casa, perché non tutte le donne avevano la patente. Esatto, insegnanti, suore, tutti hanno fatto la patente in quel periodo. Certo. Ecco, lì sta succedendo la stessa cosa che è avvenuta da noi. Quindi grande libertà, grande autonomia, l'indipendenza anche economica. Quindi è tutto... Perché comunque le donne lavorano, eh? Quindi è una cosa... Cioè, questo è il lavoro che in questo momento chi può cerca di farsi selezionare. Mi faccio dire una cosa, Rosanna. È la vittoria, ecco perché noi vogliamo dedicare questa puntata a chi vince, è la vittoria di queste donne su qualcosa che fino a quel momento per loro non era stato possibile ottenere. Da Dammam, la nostra prode, Rosanna, si sposta a Medina. Sì. E a Medina ha trovato, insomma, un'accoglienza altrettanto vigace. Devo dire di sì. Le nostre signore, le nostre, come le chiamavamo, ladies di Medina erano veramente con un entusiasmo, una voglia di imparare, di fare, che mi ha sorpreso. Cioè, partivamo alle 7 del mattino a fare lezione. 7 del mattino, fino alle 3 del pomeriggio, perché poi c'era il cambio turno con gli uomini. Ma loro, io arrivavo, erano già lì. Pronti a partire, pronti in partenza via. Pronti in partenza via, bravissima. Pronti in partenza via. Allora, le vittorie non hanno età. Allora, c'è un signore che ha 87 anni, adesso ne ha 88, ha preso una patente nuova di zecca, ha studiato, ha passato l'esame Antonio Nofroni. Il nostro Matteo Forino l'ha raggiunto a Parma, per farci raccontare anche questa vittoria. Vediamo. Sono Antonio Nofroni, sono nato a Milano il 25 marzo del 34. 15 ottobre ho deciso di pigliare la patente, per una questione di necessità, perché vivendo praticamente in un paesino, avevo necessità di potermi muovere. E poi, perché anche la guida è stata presata alla mia passione, ho sempre guidato in tutti i paesi del mondo. La mia passione per la guida è nata in Africa, perché ero sempre in contatto con mio padre, che guidava i camion, e io sono sempre stato accanto a lui. La prima volta che mi sono messo alla guida, ho approfittato il fatto che mio padre era partito per un viaggio e aveva lasciato la sua macchina alla corsa nel cortile di casa mia. Ho preso la macchina e sono andato a giù. Il sigarrone Già nel 1964 ho partecipato al primo rally di Etiopia Naira Rally, e questa si è rivelata da me la passione per la corsa. Ho partecipato a tutti i rally di Etiopia, e le sensazioni e i piacere che si provano di guidare una macchina a velocità spaventose, dà la possibilità di capire qual è la tua capacità di guida. Sulla mia torpedo blu L'esame non è stato difficile per me studiare, perché durante tutti gli anni ho sempre mantenuto in attività la mia mente, studiando continuamente tutte le attività. Le lezioni andavano bene, solamente molte volte mi opponevo, facevo delle domande agli istruttori, perché non era chiaro la risposta che dovevo dare. E altrimenti rimanevano meravigliati e praticamente tutte le domande che facevo io durante le lezioni. L'esame è stato perfetto, non ho avuto nessun problema, ho guidato tranquillamente il centro e anche fuori dalle città senza problemi. Ho finito l'esame e l'ispettrice che faceva gli esami, siccome erano piuttosto perplessi quando ho iniziato a guidare, quando è scelto gli ho domandato ha avuto paura? Mi ha guardato con l'idea, beh, se avessi avuto paura non ti dava un bica patente, tolma l'edito. Signor Antonio è tutti noi, signor Antonio lei è tutti noi, anche dalla nostra istruttrice, vincitrice, Rosanna Rampin, di tutto l'amore che le donne dell'Arabia Saudita hanno saputo darle, complimenti. Coach Rosanna, questa è la torta che le hanno regalato le sue allieve? Mi si è sciolto il cuore quando ho visto questa cosa, non me l'aspettavo, questa era durante la mia ultima tappa e l'ASA, quindi pochi giorni prima di tornare in Italia. Quindi non sono più solo un'istruttrice, una trainer, sono coach. Quindi il fatto è che oltre alle nozioni tecniche io le motivavo, le dicevo potete fare molto di più, molto di meglio e anche ve lo farete per le prossime persone con cui avrete che fare. Quindi bellissima. Rosanna Rampin, titolare Autoscuola Brianza di Casate Novo e segretaria provinciale Lecchese di Unasca nell'Unione Nazionale Studi. Non ci sono solo le consulenze automobilistiche, ma ci sono le autoscuole. È stato un piacere conoscerla. Io voglio salutare i suoi genitori, che evidentemente hanno fatto un eccellente lavoro. Grazie. Mi hanno anche dato, cioè vi ringrazio perché mi hanno permesso di fare questa esperienza. Loro, i miei collaboratori. Hanno fatto bene, hanno fatto bene, quindi un grazie. E un grazie anche, bisogna sempre saper contare sugli amici, quando tu lasci due gatti a casa. Quanto tempo è stato in Arabia? 80 giorni. Uff, 80 giorni vuol dire che chiede le due questa qua. Questo è micetto. È micetto. E l'altra è birra, giusto? E l'altra è birra. Allora, ringraziamo anche l'amica che ha tenuto, eccola birra, eccola, una tigre bianca e nera, le ha tenute lì per 80 giorni. È venuta tutti i giorni a dargli, ovviamente, non solo il cibo, ma proprio l'affetto, le coccole, la presenza. Ci facevamo i video, li faceva sentire la mia voce. Quindi grazie a Dina, perché è una grandina. Grazie, perché mi ha dato veramente questa possibilità. Grazie, grazie, grazie. Mi dica solo una cosa, proprio come una Polaroid, un lampo, che cos'è che si è portata via dall'Arabia Saudita? La cosa più bella? Ah, ho imparato ad ascoltare, perché essendo in un mondo in cui comunque parlavo in una lingua diversa, ho dovuto imparare a stare in silenzio e a capire dai gesti degli altri che cosa facevano, guardandoli negli occhi, lo specchio dell'anima, veramente calma e pazienza. Rosanna Rampin, fortunati voi che prendete la patente con questa signora. E meno male che a me non ha chiesto nulla su come io gestisco la macchina. Lasciamo stare. Grazie Rosanna, grazie a lei, grazie di essere stata con noi. Allora, vincere questa sfida, portare tutta la propria conoscenza ad altre donne che hanno vinto questo ruolo e che cambieranno la storia. Vincere quel qualcosa che sogni di fare da grande quando sei un bambino e quando tante situazioni ti impediscono di arrivare a quel traguardo, tante situazioni difficili ti impediscono di arrivare a quel traguardo. Ma Giovanni Muscarà è un grande, straordinario ragazzo. Lo ha incontrato la nostra Antonellina Ferrara. Guardate. Il primo giorno di scuola a sei anni ricordo benissimo che la mia compagna Liliana dovevo dire una parola che cominciava con Co ha iniziato a dirmi Co, 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 ma come parli? Sembri una gallina. Ecco, quel giorno ho preso consapevolezza che c'era qualcosa che non andava col mio modo di parlare e da quel giorno ho ahimè cominciato ad associare alla mia voce al mio esprimermi al mio parlare dolore e fatica. Qualunque cosa volessi esprimere dovevo passare dalla mannaia della balbuzie. Ho balbettato in questa maniera molto intensa appunto perdendo il controllo del mio corpo fino a 30 anni. Ovviamente i miei genitori mi hanno sempre portato dal logopedista sperimentale un giorno chiesi a mia mamma mamma ma perché proprio io devo parlare in questa maniera? Perché proprio io? Mia madre ricordo stava stirando si è bloccata si è paralizzata e mi ha detto Giovanni non lamentarti mai più del modo in cui Dio ti ha fatto. Io non ho mai rinunciato appunto ad inseguire i miei sogni ad un tratto sognavo di diventare un grande uomo di finanza mi sono spostato su Londra e anche lì ho cominciato a fare tutti quei miei esercizi per cercare di parlare meglio stanco dell'ennesima etichetta mi sono detto caspita ma ci sarà qualche modo per avere la gestione del mio corpo e mi sono detto ho lavorato con professionisti di ogni tipo ma mai con i fisioterapisti quindi ho cominciato a fare degli studi per cercare il giusto metodo e da lì è nato tutto un percorso che pian piano mi ha permesso di cominciare a gestire la mia motricità la mia voce la mia emotività vedevo che cominciavo a riuscire in quelle cose banali semplici che in realtà per me erano stati gli ostacoli più grandi l'ordinazione del caffè un'ordinazione del pranzo della cena una telefonata ricordo un giorno un pensiero e se facessi di questo il mio lavoro se facessi e se fosse questo quella cosa grande che sognavo di fare fin da bambino adesso faccio il centro per la barbuzie più grande del mondo dieci anni fa quindi ho deciso di fondare il centro Viva Voce che appunto è sì un poliambulatorio medico composto da equip specializzate nei disturbi della voce del linguaggio della comunicazione ma è soprattutto la casa di chi non riesce ad esprimere quello che ha nel cuore io oggi ho vinto la mia battaglia mi sento finalmente libero di poter essere me stesso in qualunque situazione non c'è davvero oggi nulla che mi riempie di più il cuore del sorriso della faccia della gente che dice ma io posso farcela e di essere io strumento con la squadra di Viva Voce con Viva Voce con il metodo da me creato essere partecipe di questa gioia di questo cambiamento applausi a quest'uomo applausi applausi veramente veramente un vincitore un vincitore che poi come vedete aiuta gli altri a vincere quando sei a casa e stai guardando le olimpiadi e ti va via la voce perché quell'atleta che ti rappresenta che rappresenta il tuo paese ce l'ha fatta contro ogni possibilità ce l'ha fatta ti trovi davanti a Maria Centracchio la giudoca delle fiamme oro polizia di stato ma come sono contenta grazie grazie mille una mia medaglia medaglissima di bronzo a Tokyo 20-20 categoria meno 63 kg tecnicamente significa pensi medi diciamo lei non può gareggiare con un atleta che pesi più di 63 kg o meno di 57 kg o meno di 57 kg poi lo so quello che state pensando ma lo pensiamo dalla prima volta che l'abbiamo vista è bella come una modella lei potrebbe fare no e invece giudo giudo quella nobilissima arte che è il giudo nelle fiamme oro nelle gloriose fiamme oro dal 2015 in nazionale a 14 anni dico bene si andatela lì quanto è bella dal 2009 in nazionale senior dal 2015 benissimo abbiamo detto tutto e viene dal Molise ora io ho una mia teoria sul Molise che è una terra che adoro avete una tenace c'è una testardaggine che proprio non vi piega nulla assolutamente penso sia la nostra forza che ci contraddistingue dai tempi dalla storia ce ne parla siamo un popolo ricco di valori con una tempra incredibile ostinato ma in senso buono perché quando vogliamo qualcosa la raggiungiamo e sono onoratissima di poter essere la portavoce di questo popolo che è poco conosciuto ma che varrebbe la pena di ma che è estremamente apprezzato io le parlo le ripeto quanto meno ma non sono solo io ad amare il Molise e se cadi sette volte ti rialzi otto Antonio Antonino Morici avete fatto avete scritto a quattro mani decisamente questo libro che è indispensabile anche nella vita di chi non farà mai judo carissima perché cadiamo tutti ben più di sette volte la sua caduta sette volte qual è stata? la cosa più difficile nel mio percorso sono stati gli infortuni sono stati tanti e ogni volta accettare anche solo l'infortunio quando la tua carriera sta andando avanti e ti si blocca così repentinamente senza che tu possa fare nulla quindi stai lì a guardare una cosa che è successa già accettarlo però è difficile poi da lì dire ok adesso anche se è successa questa cosa anche se sono caduta mi rimetto mi riprendo fisicamente e mi alleno a partire da zero per ritornare a quel livello e anche di più e gli infortuni sono stati tanti nel mio percorso si sono vicendati quasi in maniera catastrofica e ogni volta però mi dicevo sempre fin quando non arrivi al tuo obiettivo non importa quello che succede la cosa importante è che ti puoi rialzare e puoi riprendere allora Volturni Edizioni scusate io non avevo non avevo sottolineato l'editore che invece è sempre molto importante Antonino Morici lo ringraziamo inviato della Gazzetta dello Sport proprio in questa Olimpiade perché ho detto ci si mette a durlare davanti alla televisione perché perché quel momento insomma per noi è stato arrivare e sentire di aver vinto anche noi quella medaglia perché voi siete anche questo voi atleti in quel momento per chi è in un letto di ospedale per chi ha perso tutto per chi per chi è stato sconfitto e capita a tutti nella vita in quel momento voi siete lì anche per noi qual è il primo pensiero che fa una campionessa olimpionica di Judo quando capisce di essere arrivata a medaglia a chi lo dedica che passa per la testa in quel momento per me stavo andando tutto a rallentatore è come se fossi stata spettatrice di quello che stava succedendo e mi sembrava surreale non so se è un sentimento comune però nel mio caso diversamente da altre vittorie da altre conquiste che ho avuto a livello sportivo però è stata proprio un'emozione singolare in cui mi sono sentita totalmente incredula totalmente spiazzata e ho detto ma è vero quella è stata la cosa sta accadendo a me sì 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 l'ho ripetuto tantissimo ho guardato le mie amiche quando sono scesa altra da me e chiedevo ma è vero è stata qualcosa di assurdo paradossalmente assurdo se voi sapeste quanto pesa questo assurdo posso? posso? perché io quando mi avvicino faccio sempre con tutto il rispetto che è dovuto a questo istante io sto tenendo nelle mani per tutti voi anni e anni di fatica sette cadute e una grandissima capacità di rialzarsi l'ottava tanto che siamo andati a medaglia a Tokyo 2020 ne parliamo tra un attimo quanto pesa quanto pesa Maria ma pesa pesa Maria Centracchio la giudocca delle fiamme oro polizia di stato medaglia di bronzo a Tokyo 2020 categoria meno 63 la categoria è meno 63 mezzo chilo pesa solo la medaglia e questo abbiamo abbiamo saputo mezzo chilo sì 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 è pesante sia a livello significativo che praticamente che praticamente allora questa medaglia arriva arriva da da una vita da una vita intera lei è una bambina ma voglio dire ma da una vita di sacrifici di impegni partita dal Molise Molise Forever allora ci tengo a dire questo perché sono una tifosa molisana vogliamo citare con ordine il paese di origine Rocchietta al Volturno Rocchietta al Volturno dove vivono ancora c'è ancora papà la casa di paterna che ha ereditato dai miei nonni però attualmente viviamo a Disernia dove c'è anche la palestra dei miei genitori adesso arriviamo alla palestra dei genitori Antonio Morici Gazzetta dello Sport inviato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che ha scritto questo libro bellissimo cadi sette volte rialzati otto e molisana anche lui sì infatti è stato incredibile incontrarlo proprio nell'evento del judo io prima delle Olimpiadi non l'avevo mai visto e ho scoperto che era un mio conterraneo questo tutto ciò è meraviglioso andiamo con ordine allora Rocchietta al Volturno diventato poi Isernia per la casa chiaramente per la vita di tutti i giorni papà Bernardo giudoca di livello internazionale quindi figlia d'arte i fratelli Luigi ed Emilio sì idem anche loro ora tutto bene uno sport che per una donna il topolino che vedete tra le possenti braccia di papà Bernardo è lei è Maria è Maria è lei quanti anni? la pensano di averne avuti massimo 4-5 non di più mamma mia e invece di fare danza esatto faccio giudo sì mannaggia no come mannaggia siamo qua con la medaglia al collo la danza è stata sempre una mia grande passione in realtà e lo è tuttora io in palestra stando in palestra con i miei genitori tutto il giorno ho iniziato a praticare ginnastica ritmica e poi danza però c'era sempre questa finestra sul giudo io vedevo i bambini fare giudo divertirsi e un giorno ho detto vabbè dai provo anche io è da lì io ve lo dico subito me la porto a casa lei lo dico ai genitori non è sequestro di persona ci mancherebbe altro ma guardatela guardatela cintura rossa quindi veduto che sia lì era proprio giusto per farmi fare la sfilata ecco sì però con i suoi piedini nudi però piedino da ballerina ha messo il piedino in posa in posa così ed è iniziato questo amore per uno sport dove il giudo non è una danza però ha in sé una bellezza parlo da persona non esperta ma da persona che possiamo darci del tour certo assolutamente che ti ha seguito con tanto veramente credimi con tanto amore è così elegante il tutto è così antico ecco qual è la bellezza di questo sport allora prima cosa secondo me la bellezza sono i valori che lo sport che questo sport trasmette il rispetto il rispetto per l'altro la capacità di comprendere il tuo corpo e di capire che c'è un'altra persona con cui ti devi muovere quindi è una totale armonia appunto di corpi e anche di proprio di rispetto per la volontà dell'altro perché bisogna lavorare in due e quindi si è sempre coordinati bisogna sempre un momento un momento rispetto per la volontà dell'altro perché comunque quando ci si allena ci si allena anche con un'altra persona e l'altra persona quando tu provi le tue tecniche è a disposizione per te quando l'altra persona prova le tecniche sei tu a disposizione per lui e quindi è uno scambiarsi informazioni e insegnamenti eh se non vi par poco no voglio dire e in tutto questo quella perfezione quella attenzione quella perfezione è quella capacità intuitiva perché l'ultimo come si chiama colpo come sì tecnica diciamo possiamo dire l'ultimo gesto che mette che ti porta sul podio è chiaramente è un gesto che richiede anche è normale la capacità intuitiva di capire quando riuscire a fare tutto questo e queste sono le immagini che vediamo allora avere come allenatore il proprio padre poi siamo a Emidio a tuo fratello sì è bellissimo però quant'è complesso molto molto complesso sì la cosa più difficile è dividere i due campi il campo familiare e quello professionale molto spesso è tutto qualcosa di unico quindi torni a casa e non hai a casa i genitori che magari ti dicono che fai stasera sì oppure che vuoi mangiare è un allenamento è andato così oppure ok prepariamoci perché c'è la gara una cosa che da una parte è molto ti aiuta tanto perché sai che hai un alleato da quel punto di vista sempre dall'altra parte è difficile perché non c'è mai una pausa non c'è mai una pausa e ovviamente ma questo vale per tutti per chiunque faccia sport e stiamo parlando di uno sport ai massimi livelli l'attenzione alla salute fisica intendo dire al cibo per esempio se sei sotto 63 non c'è la fetta di pandoro insomma anche se ve la sudate la fetta di panettone o altro insomma quindi c'è un modo attentissimo di considerare la propria vita quotidiana un piede rotto costole rotte lesione ad un gomito proviamo soltanto a immaginare di farci male alle costole perché siamo malamente caduti ci vuole tanto di quel tempo per recuperare quando il tempo porta una divisa che sia questa delle fiamme oro che poi porta a salire sul tatami non dobbiamo sbagliare ecco però Maria è proprio campionessa nata lei è proprio campionessa nata quanta fatica costano queste cadute Maria? molta molta fatica è difficile è difficile come ho detto prima accettare e poi rimettere insieme i pezzi perché ogni volta poi c'è qualcosa di nuovo qualcosa di diverso ok si è imparato a gestire una frattura però poi che succede dopo un'operazione di ricostruzione di un gomito è difficile la cosa che ti insegna però perché ti insegna tanto è che puoi superare tutto perché quando passi una cosa poi ne passi un'altra ti ci fa bene qualsiasi cosa succede anche se succede so che la posso superare e questa è la cosa più bella è una meraviglia questa ragazza scusate io lo dico proprio la vedo ora mi è piovuta in studio e me la sono trovata davanti per la prima volta spero non l'unica allora c'è il papà ci sono i fratelli e c'è la mamma la mamma Silvia mamma c'è sempre la mamma è sempre un'istituzione fondamentale la mamma ecco qui intanto la vediamo a gustarsi una buona pizza qui si può fare perché i 63 kg a parte che lei può fare tutto quello che vuole ecco la mamma che si trova questa campionessa dentro casa e che ti vede una volta col piede rotto una volta con il gomito ti ha mai detto fermati sì da mamma penso che qualsiasi mamma perché ovviamente lei vedeva il mio danneggiarmi quasi mi diceva ma perché lo fai se vedi che ok una volta può succedere ma tutte queste volte e poi alla fine i risultati per quello che mi sono impegnata per tutto quello che ho passato ho raccolto tra virgolette anche meno di quello che avrei voluto e quindi lei mi diceva ma perché puoi fare tantissime altre cose nella vita però io l'ho sempre detto dentro di me penso che questa sia la mia strada quindi sono convinta che ce la posso fare abbia un po' di pazienza e poi vediamo ma le mamme hanno sempre pazienza poi le mamme le mamme sono un'invenzione più grande dell'umanità hanno pazienza però ti dicono la frase e però insomma e poi hanno tante tantissime cose da dirti ancora è arrivata una cartolina per Maria Centracchio e noi come tale gliela presentiamo eccola ciao Mary eccoci a parlare della tua medaglia medaglia che hai conquistato in una delle poche gare alle quali io non sono stata presente per ovvi motivi perché da quando avevi sei anni che viaggiamo insieme organizziamo tutte le trasferte prepariamo la borsa per la gara prepariamo il cibo per la gara prepariamo i dolci da mangiare dopo la gara qualcosa che prepari tu oppure qualcosa che compriamo mi chiedevi sempre le sfogliatelle di cui sei golosissima e finalmente è arrivata questa medaglia che rappresenta tutto quello che sei il lavoro che hai affrontato sempre nel corso degli anni le difficoltà che hai superato con grande forza di carattere senza mai arrenderti senza mai fare un passo indietro tutto questo ci rende molto molto orgogliosi e soprattutto rende orgogliosissima a me che sono la tua mamma ti voglio bene Mary un bacione bellissimo grazie per questa sorpresa ma grazie grazie a te noi volevamo ci abbiamo girato intorno e poi come sono belle le lacrime di una campionessa mi sbaglio sono più limpide delle lacrime non lo so però è tanto sentito un grandissimo rapporto con mia mamma penso sia una persona fantastica che mi ha insegnato quasi tutto quello che ho adesso mi ha trasmesso dei bellissimi valori in primis il senso del sacrificio il senso del lavoro e il rispetto per tutti quindi devo a lei tantissimo e sono felice di averla ascoltata oggi perché anche se siamo lontane perché non vivevamo più insieme e la porto sempre con me sai che tu sei proprio una meraviglia Maria sei proprio una meraviglia e si capisce perché si arriva da lì però sei proprio una meraviglia grazie sei così vera sei così forte e sei così autenticamente campionessa autenticamente campionessa credimi grazie veramente tanto e sì va bene lo so ve ne siete innamorati follemente tutti voi e quindi quindi la nostra Maria nostro neanche dell'oro solare si allena con le fiamme a oro a Ostia siamo sul mare il mare di Roma sì diciamo così quella 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 maranto quella divisa è una divisa molto importante gloriosa certo è una divisa carica di storie di e di medaglie ed è importantissimo indossarla insomma certo onolarla sempre anche perché senza il gruppo sportivo non potrei fare l'attività che svolgo non potrei farlo a livello professionistico mi dà mi dà la possibilità appunto di trasformare la mia passione in un lavoro e penso che non ci sia cosa più bella quindi ogni qualvolta si può onorare questa maglia ne sono felicissima beh insomma l'hai fatto certo che mi pare mi pare già insomma con questi 500 grammi no in più si è arrivata con 500 grammi in più di peso in valigia allora se se la piccola Maria adorabile quel topino che abbiamo visto prima col piedino così voleva essere giudoca praticamente l'ha capito intorno ai sei anni un ruolo importante l'hanno avuto le Olimpiadi di Rio de Janeiro sì dove la tua allenatrice era no la mia compagna compagna scusami Odette Giuffrila Odette Giuffrila che è stata anche argento proprio lì a Rio mi ha permesso di andare a Rio con lei come sua partner di allenamento ah ecco in questo senso perdonami mi ero sbagliata io quindi quel partner di allenamento di cui parlavi prima esatto esatto ah quello di cui devi rispettare i tempi i modi esatto bene e quindi amiche tantissimo sì sì siamo cresciute insieme praticamente voglio dire scusate c'è una cartolina per Maria è qua è un ufficio postale le poste italiane qui hanno una succursale prego ciao Mary mi hanno chiesto di partire un video messaggio per salutarti immagina quante volte io l'abbia già fatto e quanti ne abbiamo cancellate mi hanno chiesto l'aiuto da casa adesso siamo in due è più facile ti mandiamo un bacione e ti vogliamo dire che ti vogliamo tanto tanto bene quanto e ridono allora ho detto Giuffrida con Martina lo giudice grazie grazie ragazzi anche delle vostre ma che bello ti vogliono bene tutti che bello loro sono fondamentali sono state e sono fondamentali per me sono diventate la mia famiglia a ostia certo sì certo perché poi esatto poi la famiglia famiglia che è quella però ha poi questa capacità di estendersi quando le persone sono con te condividere è famiglia sì esatto condividere questo tuo libro ha una dedica ai ragazzi del Molise e dai che torniamo sul Molise e ai loro sogni sì perché? perché molte volte ci si limita pensando che si proviene da una realtà così piccola a volte anche un po' limitata oggettivamente si pensa che non si può arrivare da nessuna parte è un po' come vabbè sì ma io sono molisano vivo in Molise che posso fare? e invece non è così vuoi conquistare il mondo esatto soprattutto perché per quello che si ha lì dentro ma soprattutto perché quando si è a volte svantaggiati rispetto agli altri si può avere ancora più spinta per raggiungere un obiettivo perché le mura tra virgolette i limiti che noi vediamo non devono essere una recinzione ma devono essere un punto da cui saltare per arrivare dove vogliamo e possiamo arrivare dove vogliamo veramente se ci mettiamo tutto il cuore e se facciamo sacrifici giusti tu mi ricordi più persone in Molise ha avuto uno straordinario giornalista tra gli altri Gaetano Scardocchia Gaetano Scardocchia dirigeva la stampa è stato un uomo capace di scrivere pagine di giornalismo molto molto importante e veniva dal suo Molise potrei citarvene tant'altri una giornalista dell'ANSA Stefania Passarella i molisani sono tanti tantissimi sentite però io dobbiamo farci dobbiamo fare un accordo veramente con le poste italiane c'è un'altra cartolina e oggi è così oggi è così oggi butta così signori mi dispiace da Tokyo 2020 tutte cartoline guardate l'idea di raccontare la storia di Maria in un libro è nata a pochi minuti dopo la conquista del bronzo olimpico a Tokyo dopo quel pianto liberatorio a cui ho avuto il privilegio di assistere durante la stesura del libro mi hanno colpito soprattutto tre cose la prima la determinazione della persona della ragazza prima che dell'atleta la capacità di andare oltre gli infortuni la sfortuna i contrattempi la seconda cosa la semplicità con cui ha raccontato certe dinamiche non faci la purezza nel mettersi a nudo dimostrando il miglioramento la crescita interiore prima che come atleta la terza cosa che mi ha colpito è il rapporto che ha con i compagni di nazionale il judo è uno sport individuale ma dimostrare di avere la stima di campioni olimpici come Fabio Basile di atleti capaci di vincere due volte una medaglia ai giochi come Odette Giuffrida la dice lunga sulla capacità e sulla qualità della persona di farsi apprezzare Antonino Morici il tuo autore grazie e sai non sono queste parole non sono parole perché tu sei la campionessa olimpica tu sei la campionessa olimpica perché sei questo no? penso di sì e spero di sì sono tanto felice di questo sono quasi sicura potremmo andare oltre il pensiero Maria essere anche un pochino proprio certi di tutto questo prima di concludere non abbiamo ancora concluso però se no poi dopo me lo dimentico e non voglio Emanuele di Felice Antonio è il fotografo che dobbiamo ringraziare è il fotografo ufficiale ufficio stampa della Federazione Italiana judo, lotta, karate e arti marziali perché? perché abbiamo potuto avere tutte le immagini di Maria grazie a lui quando sei tornata a casa sì Maria quando proprio sei sei tornata a casa e con i tuoi 500 grammi in più della medaglia olimpica che è successo? allora la prima cosa che ho fatto è stata correre dal mio fidanzato proprio appena sono atterrata uno degli uomini più fortunati del globo che si chiama? Gabriele che bel nome ma anche belli eccoli qua proprio correre da Gabriele sì 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 proprio la prima cosa io sono atterrata a Roma alle 8 e mezza di sera e alle 9 e mezza ero sul volo per scendere a Reggio Calabria da lui quindi così si fa sono stata qualche giorno insieme a lui insieme alla sua famiglia e poi siamo andati a casa mia dai miei genitori dove mi hanno organizzato una festa grandiosa in cui hanno partecipato tutte le persone che mi hanno conosciuto negli anni di palestra cioè da quando ero nata tutte le persone che sono passate per la palestra che si sono affezionate a me e alla mia famiglia erano lì presenti e hanno festeggiato con me questa impresa è stato bellissimo vedere persone che magari non vedevo da anni ma che in realtà mi conoscono come le loro tasche vederli felici vederli orgogliosi più insieme a tutti i componenti della mia famiglia è stato qualcosa di incredibile Maria voglio che lo dica tu che ora era in Italia quando tu hai cominciato a piangere di commozione quando tutto il mondo è andato a rallentatore e tu hai detto ho vinto ho vinto ma sono proprio io che ora erano? penso fossero intorno alle 10 del mattino più o meno sì giusto sì perché poi la giornata di gara del judo è particolare perché inizia la mattina alle 9 e poi le finali ci sono tardi la sera quindi perdi un po' la cognizione del tempo bene io vi dico questo lo pensate anche voi sicuramente perché questa ragazza è questa ragazza è veramente strepitosa Maria Centracchio è quella persona che ci ha fatto urlare di gioia anche se di judo non avevamo capito niente ma ci ha fatto urlare di gioia e ora è venuta qui all'ora solare eccola qua cadi sette volte rialzati 8 le prossime Olimpiadi sono Parigi 2024 come ti si addice Parigi bella come sei guarda è stato un attimo quella tua faccia da parigina è stato un attimo un attimo un attimo Maria mille baci grazie di essere stata con noi Maria Centracchio l'ora solare dentro l'ora solare grazie a tutti signori grazie ma che splendore che sei grazie che splendore grazie a tutti grazie a tutti